Dove diavolo è? Vuol dire che non ti fidi di me? Non si arrabbierà, eh? No, io non mi arrabbierò. Io non sono stato... No, genita! Prego, genitale! Canaglia! È questo che vorresti dirmi! Tienila in mano come si deve! Ci spiegherà tutto! Ma che cazzo ti sei? Su, amici! Tu mi stavi fissando, raga! No, 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 figurati! Non è meglio di me! Cosa glielo faccio opporre? Adesso ve lo ripigliate! Basta, subito! Conti stesso! A un certo punto dove lo provo a dire? Il nostro frenetico pompiere! La guerra ha scombussolato il mio sistema nervoso! E quando trovo qualcuno che mi guarda in quel modo io divento una bestia! Io dalla giù! Suona come? Non sbalare più, non voglio che mi faccio lì! Capito? Hai capito? Hai capito? Ah? 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 Ahahah? Ah? 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 Ah! Ah? 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 Ah ah? Guardatela! Ma, ma porca pupazza, ma che state co... osso a buco ceccia frolla pesa più che qualcuno chiami un esorcista mi lasci fate sparecchio come faccio ad aprire la porta senza il chiam hai scelto la vergine sbagliata e come è potuto succedere? secondo te adesso slegami prima che ti schiacci i coglioni aspetta che fai? non fa rincazzare mai coltone porca pupà hai preso pisello e marroni? ci sei fa pido e dolci ehi non dovresti toccare niente posso spiegare? che cos'è che hai detto? che se un fio della mignola tiri fuori il mio pene che ne diresti di un caccio nei coglioni così forte da mandarteli su a far salotto con le tossi? ma che cazzo sta a dire? vuoi che ti prenda e ti frulli fuori dalla finestra? ma mo mi stanno a girare a tur aiuto mi stanno a girare a radio olezia ai partito? porto di santa monica ora ho le idee più chiare avrò chiuso il gas mortacci olezia 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 olezia